Dopo quasi nove mesi il tema torna giovedì prossimo all'attenzione del Consiglio Comunale di Arezzo l'iniziativa per la riqualificazione della area dismessa della ex Fonte Mura e dei consiglieri PD Caneschi e Donati. E noi proponiamo che l'amministrazione comunale acquisisca questa area per destinarla a finalità turistiche, sociali avevamo pensato per esempio anche a un parco avventura oppure anche, viste la crisi energetica che stiamo passando anche per installazione di strutture che possono in qualche modo andare nella direzione del risparmio energetico. 5.000 metri quadrati in stato di totale abbandono che tornarono anche agli onori della cronaca per il rave del primo gennaio scorso. Ma dove può attingere i fondi il Comune per fare questa operazione? Partiamo dal presupposto che la base d'asta che è stata fissata per il gennaio 2023, parliamo di un costo minimo, di un'offerta minima di 140.000 euro circa, quindi sono cifre piuttosto contenute anche per un'amministrazione comunale. C'è la possibilità da parte dei Comuni che sono state facilitate negli ultimi anni questi tipi di investimenti anche su aree private o aree messe all'asta, quindi abbiamo ritenuto opportuno nel febbraio di presentare questo atto di indirizzo per far sì che il Comune di Arezzo possa presentare un'offerta e acquisire quest'area.